Immaginate uno stile grafico molto simile a quello del film Gli Incredibili della Pixar. Aggiungeteci un'ambientazione sci-fi, un po' di comicità alla Cartoon Network e condite il tutto con il gameplay immortale della saga Golden Axe. Zeros, nuovo progetto del team italiano Rimlight Studio, è un semplice beat em up a scorrimento laterale, eppure sotto la sua patina scansonata, si nasconde più di una piacevole sorpresa. Zeros è un titolo dichiaratamente ispirato ai vecchi picchiaduro a scorrimento laterale, e proprio come i suoi avi, si basa su una sola, inattaccabile regola, l'essenzialità. Il gioco inizia ed eccoci presentati alla perfezione i nostri protagonisti. C'è Mike, gigantesco e palestrato, e poi c'è la sua controparte femminile, il capitano Dorian, intelligente e agile come un gatto. La campagna, giocabile sia in singolo che in co-op esclusivamente locale, ci porterà attraverso due mondi dal setting grafico completamente diverso, organizzati a loro volta in 18 livelli, dalla durata via via sempre più consistente e arricchiti del tre boss fight. Sulla struttura degli stage non c'è molto da dire, perché la progressione è estremamente lineare, si prosegue dunque di area in area, eliminando chiunque ci si pari davanti e infine recuperando i medikit della preziosissima esperienza. C'è anche qualche oggetto collezionabile da recuperare, ma è il combat system che rappresenta il vero fulcro dell'offerta ludica di Zeros. Quest'ultimo si basa principalmente sull'alternanza fra attacchi pesanti e leggeri che possono dar vita a combinazioni più elaborate. Nei casi di emergenza è possibile anche estrarre un'arma da fuoco, utilissima per colpire gli avversari dalla distanza. La varietà e la complessità delle singole sequenze di colpi è davvero buona, ed in questo il titolo è quasi più simile ad un vero picchiaduro che ad un brawler. Oltre ad essere divertenti da vedere, queste combinazioni vanno integrate poi con la meccanica riflesso parata. Accendere e orientare lo scudo con il giusto tempismo significa deflettere il colpo direttamente contro l'avversario, e ciò è importante non solo per infliggere danni aggiuntivi, ma perché è spesso l'unico modo per interrompere con precisione una sequenza d'attacco. Man mano che si progredisce nella campagna, sarà vitale padroneggiare questa tecnica, poiché spesso si finirà invischiati in corridoi strettissimi, letteralmente sovrastati da una folla di nemici. Gli avversari che incontreremo nel corso dell'avventura sono almeno una dozzina, sufficienti a garantire una buona varietà. A rendere davvero impegnativa la sfida, però, non è tanto la diversità dei moveset quanto l'intelligenza artificiale. Per reagire efficacemente, sarà necessario osservare e metabolizzare anche i più piccoli movimenti, altrimenti si rischierà di rimanere bloccati entro la prima metà del gioco. È proprio a proposito del fattore difficoltà che spesso emergono i difetti della produzione, e dopo aver completato per ben due volte la campagna, possiamo affermare che qualche problema di bilanciamento è saltato fuori. Essendo i checkpoint quasi inesistenti, le meccaniche sanno essere piuttosto punitive se prese alla leggera. Realizzato con la quarta incarnazione dell'Engine Unity, e in seguito aggiornato all'ultima versione, il comparto grafico di Zeros si rivela uno dei maggiori pregi della produzione. Nonostante le impostazioni simili 2D, la modellazione e la densità poligonale sono davvero notevoli. Luci particellari e in generale l'utilizzo delle sfocature cinematografiche arricchiscono ancora di più un'immagine già di per sé accattivante, donandogli una profondità di campo estremamente gradevole e moderna. Va però segnalato l'alesing dovuto ad una risoluzione limitata ai 720p, e qualche sporadico calo di frame rate, nonché un persistente effetto tearing, che soprattutto nei combattimenti più concitati si fa davvero fastidioso. Zeros è quello che in fondo ci aspettavamo, un beat'em up classico confezionato però con uno stile moderno e ispirato. Nonostante qualche imperfezione, il primo genito dei Rimlight Studios ci ha convinto, ripagandoci a pieno delle nostre fatiche e riportandoci indietro in un tempo in cui pomeriggi si passavano in sala giochi.